Mentre in Puglia la curva di contagio sembra far sperare per il meglio, sale a tre il numero degli assessori della giunta di Oria nel brindisino risultati positivi al coronavirus. In quarantena cautelativa anche due assistenti sociali dello stesso comune. Due altri componenti della giunta già in quarantena sarebbero in attesa il primo dell'esito del tampone già effettuato, l'altro in attesa di tampone da praticare. La sindaca Maria Lucia Carone pare non abbia avuto nei giorni scorsi almeno alcun contatto con i suoi assessori, al momento quindi per lei alcun provvedimento fiduciario o obbligatorio. Starebbero tutto sommato bene, nessuno di loro infatti accuserebbe i sintomi tipici della patologia nella sua manifestazione peggiore. Come nel nostro consueto stile non divulgheremo noi i nomi dei contagiati che già si ritrovano ad affrontare una delicata fase personale, non per buonismo o solidarietà, semplicemente perché, come insegna la deontologia professionale, trattasi di dati sensibili attinenti alla privacy della persona, che in quanto tale può scegliere se comunicare o meno il proprio stato di salute o l'opinione pubblica. Ma questa è un'altra storia, a meno che non si tratti di personalità talmente in vista da giustificare la cosiddetta notiziabilità della notizia stessa. Grazie a tutti.